vediamo se riesco a fare questo video la terza volta che ci provo ma non mi vengono le parole giuste ragazzi una volta un amico mio mi ha dato del razzista perché io gli disse guarda io andrei fuori dalla stazione di milano la sera dopo cena e le fare fuori tutti e mi ha dato del razzista ma io non so razzista ragazzi io sono un tipologista io odio praticamente la violenza e la delinquenza gli accoltellatori i ladri gli assassini violentatori quella rassa lì la odio e veramente se potessi veramente ragazzi li farei fuori tutti perché non questa feccia nel nostro mondo non ci sta bene né in italia né in altre nazioni bisognerebbe ripulire la pianta dalle mele marce come si suol dire perché poi la pianta si riprende viene più vigorosa crescono meglio le altre le altre mele quindi ragazzi mi raccomando non mi chiamate mai razzista perché io sono un tipologista quindi odio tantissimo con tutta la mia anima odio la tipologia di persone che vi ho spiegato prima quindi i ladri gli assassini gli accoltellatori i violentatori e quelli che si azzuffano spaccano negozi e fanno a botte tutte le sere dopo scena quelli li farei sparire dalla faccia della terra bene ragazzi speriamo che si sia capito che non sono razzista ma sono un tipologista quindi un'altra categoria la mia lo volevo spiegare sta cosa perché sennò va finì che davvero mi prendano per razzista un abbraccio a tutti ragazzi buona serata ci vediamo forse in una live dopo le 9.30 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti